Flavio Operardi, allenatore del Pertusio Vittor Favria, terzo anno su questa panchina, secondo consecutivo in prima categoria, che cosa ti aspetti? Sicuramente il primo obiettivo è di migliorare la stagione passata, che è l'obiettivo principale. La squadra che abbiamo costruito è mirata proprio a far bene, noi siamo convinti di poter disputare un ottimo campionato e insomma lasceremo poi il campo che ci dica se siamo così bravi o meno. L'anno scorso una salvezza abbastanza tranquilla, qualche parte di madame, ma tutto sommato tranquilla. Cosa ti aspetti da questa stagione? Sicuramente l'anno scorso una salvezza abbastanza tranquilla, ma mai sicura fino all'ultima domenica. Quest'anno ci aspettiamo intanto una salvezza sicuramente conquistata molto prima e poi di andare a scrivere il nome del Pertusio Vittor Favria nella colonna di sinistra, non più in quella di destra. Una squadra cambiata che però si adatta a quello che è il tuo pensiero di gioco? Direi che il nuovo direttore sportivo Pedretti quest'anno mi ha veramente accontentato col tipo di giocatori che andavo cercando, quindi ora starà a me sicuramente fare in modo con i ragazzi che il motore giri nel modo giusto. Un anno di esperienze in più sicuramente serve a tutti. Un anno importantissimo, poi tutti gli anni sono importanti, ma l'anno scorso ho passato Pertusio, veramente credo che mi abbia insegnato molte cose e quindi quest'anno cercheremo di non ripetere degli errori che erano evitabilissimi.